Io sono membro della delegazione del Parlamento europeo con l'Iran. Mi sono opposto e mi oppongo alla missione della delegazione in Iran, perché potrebbe essere utilizzata dal regime per propaganda. L'elezione di Rouhani non ha cambiato il regime. Infatti continuano il programma nucleare, il massacro degli oppositori, la vergogna di Campaserafe e Liberti, le esecuzioni di massa. Io non credo che per motivi economici si possa scendere a patti con il diavolo. Grazie Presidente Maria Ragiani per quello che fa per il suo popolo e per essere qui con noi oggi. Grazie. 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 Grazie.